bello a tutti ragazzi qui siamo dei fanagamers e oggi siamo su driver club come potete vedere e vi mostrerò un nuovo video con driver bikers questo qui facciamo ragazzi come sempre lasciate un bel like commentate iscrivetevi in tanti perché dobbiamo crescere insieme come vi dico sempre eccomi qui ragazzi scusate mi hanno chiamato non so se avete sentito ecco qua giochiamo ragazzi miei mi sa che domani mi porto un video c'è il corso vediamo se mi vuole anche bene grazie miei vi ho detto di andare con la voce dog 2 non riesco a uscire di casa non riesco ad andare a puntare c'è una cosa incredibile c'è sempre da pagare una cosa una cosa una cosa una cosa incredibile è una cosa incredibile poi c'è anche il resto del dm7 quel gioco a me mi fa cagare sotto dalla paura mi fa cagare sotto dalla paura ragazzi anche questo è il re con un ragazzo si dice sono bellissimi sicuramente sono un gioco spettacolare veramente è un ragazzo grazie 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 è un ragazzo è a presto Ho vinto ragazzi Ragazzoli miei vi saluto Questo è stato un video molto corto Per chi non ci ha avuto tempo Oggi per registrare E domani vi porterò un video bellissimo Che vi piacerà Bella a tutti ragazzi Vi saluto al prossimo video Bella Ciao